Sarà un'estate all'insegna dei controlli per una movida tranquilla, lo ha assicurato il questore di Pescara Luigi Liguori, parlando anche del Daspo Willy nei confronti di due giovani protagonisti di un'aggressione e danni di un ragazzo. La misura preventiva è stata adottata non solo nei confronti dell'autore materiale dell'aggressione nei pressi di uno stabilimento sul lungomare che è stato denunciato, ma anche nei confronti del fratello presente ai fatti, poiché era già stato denunciato negli ultimi tre anni per due episodi analoghi. Il provvedimento del questore di Pescara vieta i due per un anno dalle 22 alle 4 di ogni fine settimana di accedere sia negli esercizi pubblici, teatro dei fatti, sia in tutti gli stabilimenti e locali su un ampio tratto del lungomare nord e sud e nemmeno di stazionare nelle loro vicinanze. Il questore si rivolge poi alla cittadinanza invitandola a denunciare fatti di cronaca e precisa come ci sarà una meticolosa attività di controllo per un'estate serena. Noi lavoriamo con la massima serenità, teniamo conto che i cittadini hanno vissuto un periodo lunghissimo di compressione, quindi agiamo con la dovuta determinazione e andiamo a colpire quei piccoli o singoli episodi che vanno a turbare l'ordine pubblico, come gli episodi che si sono registrati all'inizio di questa stagione estiva in cui siamo stati tra virgolette costretti a combinare dei daspo, cosiddetto guilli, per evitare che alcuni soggetti continuino a frequentare la riviera e turbando l'ordine pubblico, magari cagionando delle lesioni a degli inermi cittadini, solo perché tra virgolette hanno guardato la mia ragazza o tra virgolette mi hai guardato storto. Noi siamo di questo avviso di dare questo segnale preciso affinché la nostra estate abbia inizio e prosegua nella massima tranquillità, ma con un dispositivo di sicurezza che viene calibrato di volta in volta e è necessario contenere questi episodi. Sono cose che assolutamente non vanno tollerate e saremo intransigenti. Non uso quel termine tolleranza zero perché è stato mutuato una ventina di anni fa da altri sindaci o altre autorità di polizia. Signor Questore, la Movida è appena iniziata, al momento un bilancio? Il bilancio è che tutto sommato è positivo perché abbiamo avuto qualche lite, chiamiamola così, quella di cui parlavamo sfociata anche in delle fratture, questo non ci piace, ma in altre zone d'Italia dalle quali provengo purtroppo si aveva a che fare con altri episodi di ben più grave deflagrazione sociale. Anche le sanzioni Covid sono fortemente diminuite, perché nelle ultime tre settimane ne abbiamo 48, l'ultima settimana nessuno. Noi stiamo tenendo conto di quello che è la realtà della città, i cittadini devono tenere conto però dei compiti di polizia.